buongiorno e buon giovedì allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio di quelli che condividono commentano e sostengono questo canale dai ragazzi che l'obiettivo è 5.000 ci possiamo arrivare allora prima di tutto ieri sono partite le ricariche delle carte acquisto ovviamente sapete che funzionano a spezzatino quindi sappiamo che sono partite poi quando ve la troverete però è un enigma io spero più presto possibile però è un enigma poi sono un tipo altre informazioni che riguardano l'SFL allora la maggior parte dei posti di lavoro posto che esistano veramente quei posti di lavoro è concentrata al nord soprattutto quelli specializzati dove c'è la percentuale maggiore di ex percettori rdc al sud dove ci sono pochi posti e ci sono pochi corsi mentre al nord ce ne sono di più secondo la ricottara e la calda rostaia questa misura avrebbe aiutato la gente soprattutto al sud e pinocchio al confronto era la fonte della verità e poi ve l'ho detto io di questi di queste offerte su queste offerte qualche dubbio ce l'ho ce l'ho che siano effettive detto questo sono contento che altri di voi abbiano modificato il proprio stato spero che succeda a tutti al più presto lo spero con tutto il cuore però cosa che potete fare è controllare se non avete lo speed per controllare direttamente voi potreste rivolgere un caff il caff ha l'accesso operatore quindi può vedere esattamente come la vostra situazione senza difficoltà per il resto ragazzi questo governo che oltre ad essere composto da pinocchio arroganti e rozzi è un governo che sta esumando metodologie simili a quelle del tempi del macellone in fondo che differenza c'è tra la carta dedicata a te e la carta eventuale oppure la ricarica eventuale aggiuntiva per il carburante che differenza c'è tra quelle carte e tessere annonarie che davano ai tempi del macellone nessuna il principio è sempre quello una soluzione malfatta di brevissimo respiro che non risolve il problema di fondo la il problema di un tipo qui il problema di un altro ma di fondo queste cose non risolvono la situazione semplicemente danno quella giustatina del minuto che purtroppo nella testa di troppi italiani rappresenta una un grande vantaggio una grande una grande soluzione ma in fondo ragazzi io capisco che queste cose sotto un video in cui italo arte orale l'uomo che la spinazosola di una lumaca definiva il bonus super bonus una truffa e altre parole e ovviamente veniva insultato da giustamente tra l'altro da altri i commenti sotto è vero quello lì la levinski italiana ecco ha ragione tutte queste stronzate qua poi dovrei spiegare a questi qui come ha funzionato il super bonus mi sembra assolutamente inutile ma siamo sempre lì no ha beccato qualcuno che ha fatto il furbetto loro sono tutti furbetti no nella loro testa poi se gli fai notare che applicando lo stesso ragionamento allora dovrebbero togliere tutte le pensioni dovrebbero togliere tutti gli stipendi perché perché hai beccato qualcuno che faceva il furbo col cartellino togliamo gli stipendi no applichiamo lo stesso sistema di ragionamento ma ragazzi è come spiegare un lobotomizzato fisica nucleare non serve a niente perché sono troppo sono troppo imbevuti di detto dia di autoreferenzialismo per cui su questo argomento spero di non doverci tornare ma non perché non voglio perché spero che non sia più necessario anche se so che ve l'ho detto i leoni da tastiera anzi con i gli bagnati da tastiera si riproducono con punto come i conigli e il stesso tipo di ragionamento che magari fanno verso il percettore hanno fatto magari sui fatti di palermo sui fatti di fiugi altre cose in fondo è gente che magari come detto come ha scritto una di voi già mi ha subito ha girato il commento in merito al novantenne magari quel novantenne è un po come gasman alla fine dei nel nome del popolo italiano dopo la vittoria dell'inghilterra c'è sto rincoglionito col bastone tutto tirato tutto elegante che si mette a straparlare gloria viva viva rivera e poi viva il macellone oppure quando sempre gasman appare vestito da parà che si mette a cantare colonnello non voglio pane voglio più amore del moschetto ecco siamo quella gente lì ancora ferma lì con concettualmente cioè non è che sono usciti da quella da quel modo di pensare e siccome adesso non c'è un determinato bersaglio per il bersaglio sono i poveri poi quando diventeranno poveri loro ne discuteremo perché andando avanti così tra un po sarà dura anche per quelli che ne prendono 1.500 di pensione l'ho detto lo spettro della grecia della venezuela non sia non è così lontano se non si dà immediatamente una sterzata ma per dare una sterzata servirebbe gente esperta ma esperta veramente no come questi qui questi sono le cose che mi sono esperti a fare danni gente esperta gente preparata gente coraggiosa e gente che capisce la situazione cioè che il popolo ha fame e prima di tutto viene il popolo e non i ricchi per cui io pelo i ricchi per dare ai poveri io peli ricchi per darli al popolo perché il popolo e lo nazione e non un elite il popolo e la nazione e la nazione nel popolo ciao a tutti gente